buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti oggi parleremo del calendario ufficiale di pagamento delle pensioni di novembre 2020 prima di visionare il video come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale la prossima settimana è prevista la pubblicazione del calendario ufficiale di poste italiane per le date di accredito delle pensioni per novembre 2020 la diffusione del covid 19 la proroga dello stato di emergenza finiscono per portare il governo verso un anticipo dei versamenti per chi va in posta l'obiettivo come avete imparato già dai video precedenti è quello di ridurre gli assembramenti negli uffici postati quindi per novembre e dicembre dovrebbe usarsi la solita formula ossia quella dei turni organizzati per cognomi andiamo dunque a vedere qual è la bozza dei pagamenti per novembre 2020 lettera a e b lunedì 23 novembre lettera c e d martedì 24 novembre lettera tra e e k mercoledì 25 novembre lettera tra l e o giovedì 26 novembre lettera tra p e r venerdì 27 novembre lettera tra s e z sabato 28 novembre chi riceverà la credito sul proprio conto corrente dovrà invece aspettare il primo giorno bancabile del mese ovvero il 2 novembre per quelli di ottobre e il primo dicembre per quelli relativi al mese successivo con le pensioni di novembre dovrebbe arrivare anche il conguaglio IRPEF quindi alcuni pensionati potrebbero trovare una trattenuta tra le voci del cedolino poiché in sede di dichiarazione dei redditi hanno pagate meno di quelle dovute per altri pensionati poi potrebbe arrivare un'ulteriore decurtazione dell'assegno pensionistico per via del recupero della quattordicesima indebitamente percepita tra il 2017 e il 2018. e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale grazie per l'attenzione e un saluto a tutti